Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna, tra Calenzano e il bivio A1 variante, traffico rallentato per un veicolo fermo o in avaria. Sempre in direzione Bologna, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, rallentamenti per incidente già risolto. Ricordiamo in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. In Fipilin, in direzione Livorno, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo. In direzione Firenze si viaggia incolonnati per cantieri tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Sono in corso i lavori di riqualificazione tra Montelupo ed Empoli Est. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Segnalato a Firenze, incidente nel viale Mazzini angolo via Bovio con provvedimenti segnalati in loco. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!